Ciao ragazzi e ciao ragazzi dopo un mese sto tornando con una scappa dove a parte le domande un po' più frivole volevo appunto spiegarvi come prima cosa anche perché me l'avete chiesto in mille mille persone che fine ho fatto, perché non faccio più video eccetera eccetera allora sono stata impegnata insieme ad Anthony nella progettazione di cui parte la ship quindi registrazione, fare avanti e indietro per appunto le varie modifiche il video, mi era finita la memoria nella macchinetta ovviamente non era mai successo, doveva succedere ora sono stata insomma presa da tutte queste cose in più poco prima di Natale mi sono raffreddata quanto odio questa cosa comunque il 20 dicembre mi è nato il mio secondo nipotino dopo Natale purtroppo insieme al raffreddore si è aggiunta anche come poteva, non mancare, dici che fai, non me fai venire la febbre, evviva! la febbre che è durata fino a capodanno in realtà a cavallo tra il 31 gennaio e il primo proprio quei due giorni pareva essere andata via però poi è tornata quindi ho dovuto fare le riprese del video come poi vedrete nel backstage che ho già montato però lo caricherò un pochino più in là ho fatto le riprese con la febbre a 38,5 ed eccomi qua per la gioia dei miei carissimi hater che ogni giorno si moltiplicano proprio a babambera benvenuti di nuovo in questi miei video che cliccate anche se così perché non avete niente da fare invece per tutti quelli che mi seguono sono tornata e niente scusate per no scusate per l'attesa che sto dicendo scusate sì per la lunghissima attesa che vi ho fatto attendere Giata Depp03 mi chiede come è nata la tua passione per i video sei fantastica mi saluti ciao Giata allora la mia passione per i video dovete sapere che ancora prima di scoprire youtube io mi dilettavo con Movie Maker 2.6 proprio credo una delle primissime versioni a tagliuzzare i video nel senso che mi scaricavo proprio così ve lo dico le puntate che ne so di Doctor House comunque dei telefilm che seguivo a quei tempi tagliuzzavo appunto le varie scene che mi piacevano di più insomma e poi ci facevo praticamente ci aggiungevo la canzone gli effetti tipo sfumature ingrandimento e facevo come dei video musicali però con le serie televisive inizialmente lo facevo con le immagini però poi quando ho scoperto che si potevano scaricare le serie televisive tramite il simpatico cavalluccio che si chiamava Emule Mule che ogni tanto gli prendeva c'aveva la bandana sugli occhi e mi scaricavo queste serie e facevo questi montaggi video e poi più in là appunto col tempo sono finita qua Giulia Stilinski racconta l'appuntamento più imbarazzante della tua vita ok l'appuntamento più imbarazzante della mia vita è stato esattamente il secondo anno di liceo quando mi piaceva un ragazzo tantissimo da cui poi sono stata frenzonata praticamente a lui piaceva la mia migliore amica di quei tempi e quindi che successe? uscimmo in tre proprio in tre non è che lui portò un altro ragazzo no uscimmo in tre però io ancora non sapevo che a lui piaceva lei quindi magari pensavo che essendo il primissimo appuntamento fosse normale che lei ci accompagnasse vabbè lui però parlava sempre con lei io stavo zitta perché ero timida eccetera eccetera e quindi diciamo durante l'appuntamento si viene a scoprire che lui era più interessato a lei che a me eravamo fuori al cinema lui entrò per prendere i biglietti non mi ricordo i pop corn insomma qualcosa io e lei ci ritrovamo fuori e naturalmente senza nessuna esperienza cosa facciamo cosa non facciamo e lei ha la brillante idea di dire torniamo a casa scappiamo io gli dico come facciamo? cioè eravamo a piedi comunque era lontano e mi ricordo che a una certa noi abbiamo preso e siamo corsi via l'abbiamo lasciato dentro e non mi ricordo nemmeno cosa ci disse il giorno dopo comunque il giorno stesso perché a quei tempi non c'erano né whatsapp né facebook ancora e quindi c'era soltanto msn quindi non mi ricordo nemmeno cosa ci scrisse magari se ci scrisse però boh non mi ricordo niente mi ricordo solo che ce ne siamo andate via questa è una domanda molto bella in realtà è una serie di domande julie hans come descrivi la tua personalità? forte debole tendi a nasconderti? con quale accento l'ho detto? comunque rispondo prima a questa allora io penso che sono proprio sincera allora non mi voglio vantare né niente rispondo semplicemente io ho avuto praticamente un'infanzia molto priva di attenzioni e molto infelice è brutto dirlo però è così medi e superiori che ve lo dico a fare poi vi parlerò appunto di questa cosa in un altro video perché sono cose molto serie e però nonostante questo credo di essere forte sono forte perché vado sempre avanti me l'hanno anche detto me lo sono anche sentito dire che sono una persona forte vado avanti so che ci sono cose molto più gravi nella vita però per quello che è capitato a me oggi mi sento forte so stare da sola non allora in realtà ovviamente la compagnia fa piacere a tutti gli amici però se sto da sola mi va bene uguale cioè sto bene lo stesso non ho bisogno per forza di qualcuno a fianco sei estroversa quindi dici le cose come stanno allora estroversa e dire le cose come stanno sono due cose un po' diverse allora non sono estroversa aspetta mi spiego meglio sono estroversa quando mi quando capisco che posso legare con una determinata persona per esempio quando esco con qualcuno che non conosco cioè con i miei amici ma c'è anche qualcuno che non conosco io con quella persona non ci parlo nel senso che sì ovviamente faccio la figura di quella timida o di quella che se la tira però io non ci parlo perché prima la osservo voglio prima capire se magari quella persona a pelle o comunque vedendo anche com'è con gli altri può legare con me e poi al massimo mi apro invece con i miei amici proprio ve lo possono dire quelli proprio stretti sono la persona più estroversa del mondo e per rispondere anche all'altra domanda quanto sto parlando dici le cose come stanno sì la maggior parte delle volte sì il colore dei capelli pensi che rispecchi la tua personalità allora più che personalità penso che rispecchi un cambiamento che sia interiore o che sia comunque solo estetico no mi mancava tornare al rosso così come adesso mi sono stufata e voglio tornare al colore scuro mio naturale per poi un giorno farmi blu non credo che rispecchi la personalità ma comunque proprio uno stato d'animo forse del periodo non lo so Beatrice Colombo04 come hai reagito il primo ciclo oh una domanda divertente allora praticamente non mi ricordo quanti anni avevo però mi ricordo che era agosto era agosto c'erano ancora mia madre e mia sorella in casa e io insomma vabbè mi accorsi di questa cosa però ero terrorizzata tant'è che io passai tipo tutto il pomeriggio seduta sul bidet così paralizzata avevo paura perché non sapevo cosa fare continuavo ad aspettare che finisse invece non sapevo che sarebbe continuato per qualche giorno e pensavo fosse passeggera la cosa invece mia sorella ma che fai le sedute mia madre che ve lo dico a fare stava festeggiando con le trombette Fabiola Ena come ci si sente a subire tutti i giorni o quasi togli anche il quasi critiche da persone che ti conoscono solo da dietro uno schermo guarda come hai detto tu da dietro uno schermo quindi ma guarda ultimamente youtube sta diventando proprio saturo di odio più che di critiche costruttive insomma di consigli detti anche un po' in modo un po' offensivo però sto proprio notando che in quest'ultimo periodo proprio non lo so la moda la moda è accanirsi contro chiunque senza un motivo penso che appunto queste persone mi conoscono mi conoscono solo attraverso uno schermo solo attraverso dieci minuti di video come dico sempre comunque in questo mio lato frivolo in questo mio piccolo canale frivolo e non conoscono niente di me praticamente non conoscono i miei problemi come sono nella vita come li affronto quello che ho passato e quindi non me ne frega niente molti potranno pensare sì non te ne frega niente ma non è vero perché ti dicono cose pesanti non me ne frega niente e vi accorgerete e capirete del perché non me ne frega niente quando farò uscire a breve perché dopo tre anni mi sono decisa a fare il video sulla mia esperienza sul bullismo e sulla bulimia e quindi poi capirete Raki mi chiede personalmente mi sono persa la storia di Cam Cameron Dallas ci racconti qualcosa su questo come è stato incontrarlo ti adoro tantissimo e ti seguo da tantissimo tempo grazie mille allora non lo so io in realtà questa casa l'ho vissuta in maniera molto leggera invece c'è gente che si è proprio accanita come vi stavo dicendo poco fa a 2 minuti e 42 secondi praticamente io e Anthony siamo andati a Milano e abbiamo alloggiato nello stesso hotel dove alloggiava Cameron Dallas io lo conoscevo ma non lo seguivo tantissimo invece Anthony lo seguiva proprio come tante ragazze che lo aspettavano fuori io e Anthony abbiamo aspettato davanti l'ascensore tutta la notte non abbiamo dormito per appunto aspettarlo e farci la foto nel senso ok molte mi hanno detto oddio allora questa cosa la voglio chiarire perché fa anche ridere allora la foto che io ho messo su Instagram era delle 9 del mattino lui stava con 4 ore di sonno lo so perché per 10 minuti io e Anthony non l'abbiamo beccato che era già salito e appunto io e Anthony non avevamo dormito nulla zero e quindi sia io che Cameron Dallas eravamo proprio in uno stato pietoso e e molti hanno detto oddio ma che sta male ma che ha fatto era soltanto stanco era stanco io ero stanca non l'ho costretta a farsi fare la foto non era assolutamente necessario che io facessi la foto però ragazza o ragazzo tu che un minimo conosci Cameron Dallas te lo trovi davanti che fai non te la fai una foto parliamoci chiaro michele.scl se leggo bene hai mai pensato di fare la doppiatrice è la voce proprio da film saresti perfetta grazie mille meno male che c'è uno che me lo dice perché il mio sogno mio sogno la dizione di Alessia la mia aspirazione diciamo così è quella di usare la mia voce come come lavoro ecco mi piacerebbe moltissimo fare la doppiatrice oppure la speaker in radio poi Rosanna 13 secondo te se il tuo telefono potesse parlare cosa vorrebbe dirti ciao Rosanna innanzitutto il mio telefono me lo immagino femmina mi direbbe tipo basta smettila di utilizzare mi stai bruciando la batteria dato che me lo state chiedendo in tante e dato che quando c'è da dire una cosa io la dico e la voglio dire la dico moltissime di voi ma tante proprio mi avete chiesto cosa ne pensi della parodia del tuo ex non faccio nomi ma avrete già capito proprio a palla di chi sto parlando allora io penso questo vuoi fare come lavoro o comunque il tuo canale youtube è incentrato sul fare comunque canzoni tue io dico no ma pensa a fare una canzone tua una bella canzone tua piuttosto che aspettare il momento giusto per fare un video per sicuramente visualizzazioni facili mascherato ed etichettato come parodia mirato esclusivamente ad offendermi e ad insultarmi mi riferisco anche agli altri che comunque hanno fatto le parodie che non ho visto e non ho visto neanche la sua però mi hanno riferito comunque le parole che mi ha detto perché le visualizzazioni non gliele darò mai io non le ho viste però comunque piuttosto che fare un video per insultare qualcuno pensate a creare dei video con no non dico dei contenuti perché nemmeno io porto dei contenuti chissà di che grande qualità io chiacchio e basta pensate comunque a fare dei video vostri perché è facilissimo cioè anche io posso fare milioni di visualizzazioni prendendo di mira un determinato video un determinato youtuber e sparlarci sopra comunque volevo solamente esprimere questo concetto io vi mando un bacione spero che questo video vi sia piaciuto lo so è stato oddio adesso a ripensarci forse dalla parte dello spettatore potrebbe essere stato più serio di quello che io pensavo comunque niente volevo dirvi queste cose e se non in questo video non sapevo in quale dirlo vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao